Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare un prodotto molto strano che mi ha fatto conoscere mia moglie, di cui io non sapevo nemmeno l'esistenza, ma anche perché non è ancora uscita in Italia, per quanto edito dalla Panini. Si parla di Warhammer 40.000 Dark Galaxy, nell'ultima ambientazione della non-edizione di Warhammer 40.000, una raccolta di carte collezionabili, non da gioco, quindi non è un gioco, non hanno caratteristiche per giocare, sono carte collezionabili, dove nell'ordine principale che questo starter pack avete il raccoglitore e 24 carte. Praticamente vi arriva a casa il raccoglitore, sono prodotti che in Inghilterra escono in edicola, perché in Inghilterra hanno sempre queste figate di prodotti, in Italia non ce le portano veramente, perché io penso che saremmo in tante ad acquistarlo, e tre pacchetti. E' questo qui, che è arrivato dall'Inghilterra, noi l'abbiamo comprato da un negozio di Ebay, e come detto poc'anzi, è una raccolta di carte collezionabili, che hanno diversi tier di rarità, un po' come erano ai tempi i pacchetti delle Magic o di Mutant Chronicles, infatti la rarità è scritta qua giù, sono le carte Webway, le carte Inferno, le carte Adamantium, per finire con quelle più importanti, che sono le Parallel Cards, e ovviamente una carta non comune c'è in tutte le bustine, però le carte più rare, quelle Parallel, magari si trovano in un pacchetto ogni 20, o qualcosa del genere. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla, e ovviamente vi farò vedere il prodotto da vicino. Sigla. Questo è il raccoglitore che vi arriva a casa, quindi è lo Starter Pack, vedete Warhammer 40.000, col nuovo logo, con le barre rosse della non edizione, che va a identificare la non edizione, Dark Galaxy Official Trading Cards, e vedete la classica copertina con tutte le forze dell'impero, comunque quelle più famose, sotto i loro nemici, gli Xeno, e davanti a guidare la crociata, Indomitus, il grandissimo Robot Gilliman. Aprite, e ovviamente è un raccoglitore, con tutte quante le bustine, per mettere direttamente le carte, io penso che siano abbastanza per mettercele tutte, penso proprio di sì, anche perché, vedete, non c'è possibilità di inserirne altre, ma sono direttamente attaccate ai raccoglitori, quindi penso che sia intero, vedete anche i numeri, le numerazioni, e poi qui ci sono, qua all'interno, degli inserti, che ci fanno avere un po' una, una visuale sull'opera, tra l'altro con un bellissimo disegno, che fa vedere un cappellano, gli Ultramarines, che tra l'altro sono il mio capitolo preferito, e il grande Robot Gilliman, con la spada infocata dell'imperatore, che combatte. Andandola ad aprire, c'è la mappa di tutto quanto l'Imperium Sanctus, ovviamente tutto quanto il distaccamento dell'Imperio, e come vedete nella non edizione, l'Impero è diviso dal Cicatrix Maledictum, che praticamente è una faglia, aperta dalle forze del caos, dagli Xeno, che va a tagliare dal Warp, dall'Immaterium, entrata nell'universo reale, in questa nostra dimensione, e va a tagliare in due l'Impero, dividendo l'Impero, ovviamente più grande, Sanctus, che è quello dove c'è la capitale Terra, dove c'è il trono dell'Imperatore, il trono d'oro, e da quest'altra parte c'è l'Imperium Nihilus, che è una parte divisa, e queste due parti non sono più in contatto, anche perché nessuno, soltanto uno, un solo che non si sa come abbia fatto un mercante corzaro, è riuscito a passare attraverso. In questa faglia del Warp, non passa più nessuno. Questo per farvi un po' un reso conto della storia fino a ora. In quest'altro di qua, invece, tirandolo fuori, in quest'altro di qua, ci fa vedere ovviamente, continua a collezionare Warhammer 40.000, ci fa vedere romanzi, ci fa vedere pitture, ci fa vedere gli eserciti, in questo caso qui vediamo, da una parte, gli Ultramarinder 40.000, e da quell'altra, gli Stormcast Eternals, di Warhammer Age of Sigmar. Poi andando ad aprire qua dentro, invece, ci fa vedere tutte le carte che sono presenti in questa raccolta. Ripeto, non è un gioco, sono carte da collezione, da scambio, da collezione, e ovviamente ci sono tutti i capitoli degli Space Marine, tutti vedete, Dark Angel, Space Wolves, Magni Imperiali, ad esempio Blood Angels, tutti quanti. Da questa parte, tutti i loro nemici, Xeno, i vecchi Eldar, che sono gli Eldari, i vecchi Eldar Oscuri, che sono i Drucari, l'Impero Tau, Tirannidi, e tutti gli altri, e anche i vari capitoli del caos. Quindi ci sono assolutamente tutti, qui vi fa vedere tutta la raccolta completa, appunto, di questo Dark Galaxy. Questi sono i pacchettini, vedete, molto bellini tra l'altro, con un disegno sopra, che poi tra l'altro, il disegno che c'è sopra è sempre differente, quindi è veramente interessante, una volta c'è un Necron, una volta di qua ci sono degli Orchi, una sorella guerriera, una detta Sororitas, e questi sono i pacchettini, come vedete, è un prodotto della Panini, e per questo io spero che la Panini ce lo porterà anche in Italia, anche perché è una cosa molto interessante. Apriamo un pacchetto, e vediamo cosa c'è dentro. Qui dietro c'è la lista della rarità, che ci fa vedere quante, cioè ad esempio, nel gioco ci sono, nella raccolta scusate, 150 carte Only War, e qua sotto ci dice quante ne vengono trovate, di solito ogni quanti pacchetti. Si passa poi alle Webway, all'Inferno, alle Adamantium, che sono quelle rare, e poi ci sono quelle uniche, leggendarie, che sono queste qui. E poi le Webway, parallel, che si chiamano anche Voidborn, che si trovano soltanto nelle Blaster Box, o nelle Mega Box, come vedete qui. Apriamo un pacchetto, e vediamo cosa c'è all'interno. queste sono le carte in retro, che ovviamente ci dà anche la lore, come vedete, quindi ci dà anche la lore, ci dice chi sono, dalla parte di qua, e ovviamente andandole a girare, vediamo un po', abbiamo trovato, ah, abbiamo trovato un Talons, dell'Imperatore, quest'altra carta invece, vediamo cos'è qualcosa di Nargol, per forza, un Demone del Chaos, un Chaos Demon, qui abbiamo trovato, un Tiranide, un Venom Tropes, ovviamente qui dietro, è molto interessante, perché vi dà anche la descrizione, di chi sono, quindi anche, queste carte sono anche, secondo me carine, da collezionare, per ambientare delle avventure GDR, vedete, il tipo di carta, Only War, queste qui, che sono quelle comuni, e sono anche numerate, come le vecchie carte della Marvel, le Flare, qui abbiamo trovato, uno del culto, Gen Stealer, che tra l'altro, è il mio secondo esercito preferito, vedete il logo, della fazione, e poi anche questa, una carta, Only War, poi qui abbiamo trovato, un Drucari, quindi un vecchio Eldar Oscuro, carta assolutamente comune, per poi passare, a un'altra, Only War, abbiamo trovato, un altro Talon, dell'Imperatore, abbiamo trovato, la Black Legion, quindi, Marine del Chaos, rarità della carta, per poi concludere, con questa, e poi la Webway, che è la carta, tipo, non comune, abbastanza rara, che trovate in tutti i pacchetti, queste Webway, ce n'è una, in ogni pacchetto, quindi, in questo primo pacchetto, che abbiamo aperto, c'è un pacchetto normalissimo, carte normalissime, non abbiamo trovato, carte rare, quindi, non abbiamo avuto fortuna, e per ultimo, è uscito, come vedete, un Eldar, un Eldari, e queste sono le carte, che troviamo dentro un pacchetto, quindi, in ogni pacchetto, ce n'è, una rara, un'altra non comune, e tutte le altre comune, per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carte, per pacchetto, e ovviamente, è un gioco di carte, collezionabili, quindi, dovete, magari, andare dagli amici, oppure, scambiarle, su qualche pagina, e su qualche sito, veramente molto interessante, e io spero di vederlo, anche in Italia. In conclusione, questo Warhammer 40.000, Dark Galaxy, è secondo me, un prodotto da collezione, per tutti gli amanti dell'ambientazione, perché, a noi interessano queste cose, poi ti devono garbare anche le carte collezionabili, e non è un gioco, se fosse stato un gioco, onestamente, a me mi sarebbe piaciuto di più, cioè, Mutant Chronicles, Magic, oltre a collezionarle, ci giochi anche, sarebbe stato più bellino, secondo me, però va bene che così, è un prodotto da collezione, e mi piacerebbe portarlo a compimento, questo starter pack, che vedete qui, costa 9 sterline, più ovviamente, le spese postali, e nello starter pack, ci sono il pacchetto che abbiamo aperto, e gli altri due, che vedete qui davanti, quindi, raccoglitore, e tre pacchetti, come riporta dentro, ovviamente, questo raccoglitore, il manuale, le schede, gli inserti, che vi abbiamo fatto vedere, vi conviene, utilizzare, anche comprando questo, c'è un codice sconto, del 10%, vi conviene, comprare, il Mega Pack, che è la classica scatola, che arriva in edicola, presente, quella che arriva all'edicolante, apre e poi smista pacchetti, dove dentro, ci sono 18 pacchetti, e costa 50 euro, ovviamente, se andate su ebay, ci sono diversi negozi, di laggiù, dell'Inghilterra, che lo vendono e ve lo mandano, noi ci è arrivato nel giro di 10 giorni, una cosa del genere, noi ci è preso da un tedesco, e non ci è pagato nemmeno la dogana, ad esempio, quindi ci è arrivato a casa, ci è pagato le spese postali, e il prodotto, insomma, ne vale assolutamente la pena, e poi, se vi piace, e volete andare avanti, vi comprate il Mega Box, col codice sconto, che è qui dentro, però, ovviamente, è una cosa da collezione, è un prodotto di carte da collezione, quindi, per finirle, servirà un pochino fare, è anche quello il bello, un po' di trading, però, sicuramente, secondo me, troverete tanta gente con cui farlo, magari, non, alla libreria, alla fumetteria, sotto casa, come fareste, in questo caso, non essendo ancora un prodotto, pubblicizzato, e portato in Italia, vi toccherà, tutt'al più, trovare qualche gruppo, onesto, online, magari su Facebook, ce ne sono, oppure, c'è la vendita della carta singola, direttamente su Ebay, quindi, comprate quella, e basta, secondo me, è un prodotto interessante, e vi ripeto, lo vedo anche da Dungeon Master, lo vedo anche bellino, per giocare di ruolo, magari a quel punto, trovate, non lo so, uno spettro, degli Eldari, e dietro c'è anche la descrizione, quindi, invece di andare a girare, duemila manuali, ma cos'era quello, non me lo ricordo, vai a leggere dietro, e c'è anche la descrizione, quindi, secondo me, è particolarmente carino, spero veramente che Panini, ce lo porterà anche in Italia, perché, insomma, è un prodotto, è vero, non è, non è famosissimo, Warhammer, tra la gioventù da noi, capito, questo è un prodotto, che potremmo comprare noi, che Warhammer, ce lo siamo vissuti da 20-30 anni, i ragazzini di oggi, non lo so, però, potrebbe essere un esperimento, perché è un prodotto ben fatto, e molto interessante, ciao ragazzi, alla prossima. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like, e clicca sulla campanella, per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche, e non perderti nemmeno, un video in uscita, primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre, di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di Live Twitch, alla mia pagina Instagram, e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate, e su Twitch, mano a mano, troverete la programmazione aggiornata, con tutte quante le live del giorno, quindi guardatela sempre, perché ci sarà sempre, la programmazione aggiornata, mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social, perché sono sempre aggiornati, e se devo comunicare qualcosa, anche per il canale YouTube, lo troverete sempre lì, ciao, alla prossima!